adesso è ufficiale adesso è ufficiale se ne parlava già da tanto tempo e si sapeva da molto tempo ma non c'era ancora l'ufficialità adesso è ufficiale mattias olivera è un nuovo giocatore del napoli terzo colpo per quanto riguarda il napoli perché dopo quel nome impronunciabile crash kelia crash velia vabbè si farà fatica a nominare quel giocatore come tra virgolette vicensini anche se secondo me non può ancora fare vicensini quel ragazzo forse napoli prenderà qualcuno da sostituire a insigne e poi crash kelia questo giovane qui farà il secondo dopo il riscatto di zambo anghissà perché comunque va riscattato zambo anghissà e si parla su un un riscatto intorno ai 15 milioni arriva mattias olivera terzino sinistro classe 1997 dal getafe un terzino sinistro che è oro che cola se ne parla benissimo di questo giocatore io personalmente non l'ho visto tanto giocare quindi non so se può essere un buon acquisto o no ma con tutto rispetto ragazzi a sinistra nel napoli ci gioca mario lui io penso che comunque a prescindere per quanto mario lui abbia dedicato bene amore alla maglia a livello qualità qualitativo scarseggia un pochettino e penso che mattias olivera sia uno step in più rispetto a mario lui e quindi il napoli si rinforza da quel punto di vista lì in quel ruolo lì 15 milioni di euro compresi bonus quindi è comunque una cifra 15 milioni che non sono neanche pochi è quelli che vanno a sborsare il napoli al getafe per quanto riguarda il contratto non ho letto per quanti anni meno non c'era scritto nell'articolo coletto io per quanti anni firmerà col napoli e che cifre andrà a prendere magari se voi siete più informati me lo direte qui sotto nei commenti però comunque è un acquisto ufficializzato ripeto un acquisto che secondo me serviva perché a destra sei coperto con di lorenzo e su questo non c'è dubbio ma a sinistra sinceramente ripeto non togliere nulla ma io lui ma ci voleva un upgrade con questo mattias olivera ragazzi l'upgrade secondo me lo fai e 15 milioni che il napoli verserà sborserà al getafe quindi anche il napoli si rende attivo anche il napoli si muove ho saputo tramite anche comunque mio amico che forse ha bloccato pure sirigu in porta perché sappiamo che forse entrambi i portieri del napoli andranno via sirigu farebbe il secondo è ovviamente parlando forse gollini stanno pensando a gollini come primo cioè il napoli attivo anche il napoli si muove tutte le squadre si stanno muovendo il calcio mercato deve ancora iniziare ma le trattative si fanno belle perché origi al milan comunque c'è stato michi italiana all'inter adesso un pogba che ho detto fino a poco fa che ripete che ha detto sia la juventus e quindi manca solamente questa ufficialità adesso arriva anche il napoli con olive niente ragazzi un video corto perché sul giocatore ho poco da dire so che ha fatto due gol nella carriera al getafe in quei anni che sta getafe non so esattamente quanti assist ha fatto perché è un terzino che scusate l'ignoranza non lo conosco però se ne parla bene e se se ne parla bene io mi affido a comunque giornali che ne parlano bene non dico che ogni giocatore che arriva a sinistra è un upgrade rispetto a Mario lui perché non vuole neanche mancare di rispetto al giocatore ci mancherebbe altro però 97 dai anche comunque freschezza no aria giovanile anche questo crash feria è molto giovani quindi napoli anche a livello di esperienza perde qualcosa ma aggiunge aggiunge giovani aggiunge freschezza e può fare anche bene questa cosa qui è può fare anche molto bene secondo me in signe e soprattutto primo anno il prossimo anno sentiranno la mancanza se ti sentirà la mancanza di siria perché comunque a parte gol è un uomo che portava assist e tutto però per me è un buon colpo nonostante se non lo conosco questo di vera è un buon colpo quindi complimenti anche a napoli che ha già chiuso ufficializzato perlomeno l'acquisto perché sapete può barito sì ma non è ancora ufficiale cioè sembra è fatta dicono ma non è ufficiale l'italiana è quasi fatta ma non è ufficiale questa qua è un'ufficialità anche origi sembra ufficiale è comunque però olivera del napoli punto ragazzi volevo dire e quindi se il video vi piaciuto lasciate un bel like commentate fatemi sapere un po voi cosa ne pensate di questo acquisto appunto se lo conoscete meglio ditemi un po voi la vostra è buono e soprattutto anche se vi piacere iscrivetevi al canale che è importantissimo come sempre non costa nulla per me vuol dire tanto ragazzi lo sapete la vostra iscrizione è importantissimo e ripeto non costa nulla condividete il video con i vostri mi iscrivetevi anche loro e attivate le notifiche così non perderemo i prossimi video passate che sotto il link in descrizione della barra di Fusi Channel qui da mio chiedere tutto bello